Nessuno, nessuno potrà farla franca, né il singolo cittadino né la partita IVA, commercianti e occupanti di suolo pubblico. Il comune di Como dichiara lotta agli evasori della Tari e la tassa rifiuti. Secondo una stima dell'ufficio Tributi sono almeno 2.800 le famiglie in debito con Palazzo Cernezzi, alle quali si aggiungono gli esercizi commerciali e le case vacanze per una perdita che deve essere ancora quantificata ma che ammonterebbe a oltre 2 milioni di euro. L'intento della giunta di Alessandro Rapinese è riscuotere i debiti accertati e aumentare i contribuenti in modo che la tassa si abbassi per tutti. Si partirà dai pagamenti che stanno andando in prescrizione. Per questo verrà creato un nuovo ufficio in municipio, l'ufficio riscossione Tributi Omessi. Sarà un controllo di volta in volta in funzione dell'esigenza del cittadino. Il cittadino viene sempre a fare la carta d'identità, abbiamo costituito un ufficio all'interno del quale quando si fa la carta d'identità si verifica la posizione Tari e quale momento migliore quando fai la carta d'identità. Questo è un meccanismo molto lungo perché la carta d'identità ha una durata molto lunga. Ma la verità è che abbiamo incrociato in questi 30 giorni di operatività della giunta rapinese i dati delle famiglie anagrafiche con i dati della Tari e ce ne sono migliaia e migliaia che non sono denunciate. Quindi abbiamo già anche i nomi e i cognomi. E quello che stiamo facendo in questo momento è collaborare dicendo attenzione, adesso c'è una giunta che controlla. Di conseguenza il grande consiglio per pagare molto meno è venire a denunciarsi subito affinché non arrivi una cartella che costa molto di più.